Treno Frecciabianca 8813 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Lence, delle ore 17.36, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pescara, Termoli, Foggia, Barletta, Bari Centrale, Brindisi. La prima classe è in coda al treno, su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione.